Ciao a tutti, vediamo come installare un gioco di Epic Games su un altro hard disk che non sia il C primario, è molto semplice, andiamo su biblioteca e prendiamo un gioco a caso, prendiamo auto chess, ci basta fare installa, ci basta letteralmente premere, ok? La prima cosa che ci chiede è dove installarlo, quindi se io faccio esplora, vedete che mi dà il mio volume D, ma potrei benissimo andare su C e selezionare la cartella di riferimento, quindi potrei creare una nuova cartella o andare nelle cartelle che abbiamo già adibito ai giochi, in questo caso vedete che io ce l'ho su D, ho creato apposta una sezione di Epic Games, eccolo qua, e questo è il mio secondo hard disk. Quindi chiudo, ci basta fare poi installa e partirà automaticamente, al momento a me auto chess non interessa, quindi non faccio l'operazione. Se avete altre domande su Epic Games, fatemelo sempre sotto nei commenti. Ciao ciao!